Ciao, creatura. Io sono Eccati Splendente e benvenuta o bentornata nel regno di... cosa è? Buona domenica. Grazie per essere in mia compagnia anche questa domenica, creatura. Oggi ti porto Resonance of the Ocean perché ho visto che potrebbe essere un gioco ASMR per i suoni del mare, così, del vento. Spero che appunto la musichetta e i suoni siano bassi e la mia voce un po' più alta perché è così che vorrei che finisse il video. Però io sento la musica sparatissimo nelle orecchie e quindi non so, in realtà poi con OPS ho cercato appunto di abbassare un po' l'audio del computer però nelle cuffie ce l'ho sparatissimo, quindi per quello è un po' svasata la mia percezione di come verrà poi effettivamente questo video. Speriamo bene, insomma, dai. E neanche spero nel copyright della musichetta che non ci sia copyright nel... Speriamo bene. Proviamo. Allora. Anche questo... Anche questo gioco va fatto con la tastiera. Oh, il primo giorno. Un suono ha riecheggiato oltre all'oceano. Il suono riecheggia ad intervalli regolari. Volevo sentire meglio il suono e sono finito sulla riva di quest'isola. Ma sono proprio io. Da dove viene questo suono? Chi sta facendo questo suono? E perché lo sta facendo? O forse potrei provare a rispondere con lo stesso suono? Se rispondo da quella torre, forse il mio suono raggiungerà l'altra riva. C'è una specie di megaforo. Il suono è questo? Non so cosa sia. Proviamo a vedere. Mi dice Zeta? Ecco, sembra. Sembra tipo, non so, una specie di campana, non so. Cosa potrebbe essere? Flauto pennello di bambù. Un pezzo di bambù con del pelo all'estremità. C'è un buco in cima. Quando ci soffio dentro, emette un suono leggero e delicato. Ho trovato un oggetto che può emettere un bel suono. Se lo faccio suonare da quella torre, forse risuonerà forte. Qualcosa mi dice che dobbiamo andare in quella torre. Speglie il tasto. Ok. Devo fare qualcosa io. Beh, non è proprio questo il suono. Eh, il suono non ha risuonato con l'altro. Meglio cercare un oggetto che fa un altro suono. Andiamo a vedere. Scambiare flauto pennello di bambù con flauto bottiglia? Sì. Eh, questo sì. quando soffio nel foro della bottiglia emette un suono profondo e richeggiante come un flauto. no, se schiaccio il shift va direttamente lì, ma guarda. E poi non i passi piacciono. Proviamo anche questo. Secondo me la bottiglia, sì. Eccola, questo sì. Questo è il suono. Il suono ha riecheggiato oltre l'oceano. Il giorno seguente Quando sono tornato qui ho sentito un suono diverso da quello di ieri. Sapere che il mio suono ha raggiunto l'altro mi fa venire voglia di continuare a rispondere. Sembra che l'altro lato risponda solo quando riproduco lo stesso suono. Fammi provare ad imitare il suono con gli oggetti qui intorno. Ma qual è il suono? Ah, questo ting. Ok. Allora, scommetto che è un bastone battuto su una bottiglia. Tu cosa ne pensi, creatore? Ramoscello. Un comune ramoscello. È liscio al tatto. Probabilmente perché è stato alla deriva in mare così a lungo. Combinare, flauto, bottiglia e ramoscello. Ma perché no? Sono gli amici oggetti che abbiamo trovato. Bottiglia trasformata in campana. Usare il ramoscello per colpire la bottiglia produce un suono acuto molto piacevole. Ok. Proviamo. Sì, questo palese. Il suono ha riecheggiato oltre l'oceano. Il giorno dopo. Oggi, in qualche modo, sento due suoni. Mi chiedo cosa sia successo. Sebbene ci siano due suoni diversi, questa armonia è piacevole per le orecchie. Chi lo sapeva che dei suoni semplici potessero formare questo? Noi che facciamo assieme lo sappiamo. Potrebbero volerci un po' di prove ed errori. Ma facciamo un tentativo. Allora, c'è Z. Zeta X. Ehi, vado. Allora, io non so se sarebbero quelli. Ma di qua si può andare? Ah, cos'è questo? Pezzo di tenda strappato. È un po' consumato, ma resistente. Potrebbe produrre un suono. Se teso sopra qualcosa. Scambiare pezzo di tenda strappato con fratto, bottiglia? No. Voglio provare. Voglio provare. Ha detto che bisogna stenderlo. Possiamo stenderlo su qua. e rimettere pezzo di tenda strappato a posto. In che senso? Aspetta. Mettiamolo qua. No. Possiamo provare. Perché c'è X. Ma se io faccio X qua. Ah, ok. Ok. Quindi possiamo prendere due oggetti. Scusa, sono un po' lenta. Armoscello. Un comune armoscello. E liscia come prima. Maldato, probabilmente perché è stato alla diariva in mare così a lungo. Adesso se io faccio il shift. Si può amplificare un suono della torre, ma non ho nessun oggetto. Come no? Abbiamo due oggetti. Non ho abbastanza oggetti. Ma questo lo posso prendermi. Quindi prendiamo prendiamo questo al posto della vediamo così flauto bottiglia e flauto flauto vediamo se adesso l'icarpa lo metto lascio forse era questo io volevo provare a sentire cosa faceva il telo ma niente vediamo se quello è giusto ecco mi sa che è questo no no niente il suono non ha risuonato con l'altro meglio cercare un oggetto che fa un altro suono ma io volevo allora boh non lo so sono confuso allora forse così no non gli va bene così un bastoncino oh e cos'è questo nuovo oggetto scambiare flauto bottiglia con lattina vuota sì sì niente però il bastone forse o il flauto quello beloso proviamo non so dove sono finiti gli oggetti ma non capisco questi due questi due non suonano questi due non suonano perché se adesso io vado qua non mi suona no qua c'è qualcos'altro no c'è questo secondo me era questo e questo a meno che non me la faccio combinare ma se faccio così non vuole andare ecco vedi ma non si può combinare gli oggetti non capisco sì adesso vado qua non lo posso abbinare tipo con scambiare perché no io non voglio scambiare io voglio combinarlo rimettere il fatto bottiglia a posto se io metto sì cosa succede niente un po' un condizionale metallico che si trova in giro a volte contiene del cibo edificio per durare un bel suono utilizzandolo da solo ecco quindi lattina con con cosa non è a letto prima forse non voglio scambiare non capisco non capisco quindi se adesso io vado ma più c'è quanti c'è ci devo ripiare forse va questo coltiero combinare finalmente ci sono arrivata e ho fatto tipo un app lattina vuota trasformata in tamburo ho provato a stendere il telo sopra la lattina la lattina produce un suono interessante quando viene colpita se venisse suonata ad un festival avrei voglia di ballare un buon gofot ricordati che il gioco più il gioco è economico è meno dura quindi dobbiamo giocarci con calma proviamo mentre si addormentava perfetto e suonare che è giato oltre l'oceano l'ultimo giorno la scorsa notte c'è stata una tempesta ed il vento era molto forte sembra che la torre sia sopravvissuta ma la vecchia casa ha subito danni l'altra riva starà bene la nostra unica connessione è questo suono misterioso ma ho iniziato a preoccuparmi per loro risponderò al loro suono anche oggi fino a quando il loro suono continua voglio che sappiano che qui li sto ascoltando dobbiamo entrare in casa ok quanti suoni si può entrare in casa si titolo da un lato all'altro ci sono cinque linee e dei punti neri sparsi sulle linee ci sono delle parole complesse scritte sopra ma mi sono tutte strane come fare deliziosi piatti di frutti di mare ci sono un sacco di immagini di pesce e verdure tagliate bolliti e così via tra le parole che sembrano di ingredienti molti sono sbarrati e ci sono ingredienti diversi scritti al loro posto calice da vino ho fatto per servire bevande probabilmente c'è nulla di potabile qui intorno non l'acqua di mare no è salata combinare cucchiaio e calici da vino io direi di sì devo fare attenzione a non rompere il vetro se colpisco il bicchiere in modo gentile emette un suono grazioso e delicato aprendo ma non so se ci serve un filo lungo e sottile usato per la pesca potrebbe produrre un suono una volta legato intorno a qualcosa di solito se danno suggerimenti potrebbe servire insomma a meno che non ci butta fuoristrada pentola si utilizza per cucinare probabilmente fa un bel suono quando viene colpita sta bene combinare cornice e spago bello cornice trasformata in arpa pizzicare i fili intorno alla cornice produce un suono teso e sofisticato note 2 2 6 97 da quando è successo non so x astristi asianisti persone somma nomi e quello quell'altro vengono trasportati arriva tutti i giorni è inutile questo posto è ancora sicuro ma quanto allungo 9 7 97 vedo molto meno xxx sul mare la vita va avanti anche in questa situazione il mio unico piacere è ascoltare xxx e xxx 13 8 97 il suono di xxx si sta interrompendo è un peccato ma xxx ha avuto l'idea di fare xxx solo noi due suona male 15 10 97 non mi sento bene ultimamente probabilmente per la malnutrizione nonostante ciò è rilassante cercare la risonanza con xxx per fare xxx non ci sono più voci dopo di questa era questo io penso fosse il letto perché usciamo manca qualcosa sulla pentola secondo me bastone combinare l'omuscello e pentola si eccoci qua secondo me abbiamo fatto pentola trasformata in campana emette un suono diverso dalla bottiglia è un suono lungo e riverberante riverberante si l'ho letto giusto adatto per le sveglie e per le campanelle da cena proviamo non ti assicuro non ti assicuro nulla creatura non sono nell'ordine giusto non sono nell'ordine giusto non è un soggetto che fa un altro suono credo che l'errore sia il primo perché anche prima non erano in ordine ma me li ha messi lei il gioco lo dico allora questo non so questo questo non so mi sembra troppo banale la cosa scambare bicchiere lo usiamo no non c'è questo suono a meno che non non ci sbattono allora a meno che non devo metterli in ordine per davvero sembrerebbe proviamo così tanto per è l'ultimo credo sia l'ultimo di questo livello quindi mi sa che l'ultimo è l'ultimo il bicchiere no questo è sbagliatissimo allora il bicchiere è sbagliatissimo ma era solo per vorrei risentire il suono più volte ma cos'è questo è la cornice l'ultimo è il bicchiere secondo me ho messo posto scambiarli vediamo i bicchieri sono tornati quasi scambiare frotto bottiglia con calici di vino ma no perché l'abbiamo fatto prima aspetta dobbiamo mettere l'ordine scambiare pentola sono suonata in campana sì ok 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 sì sì perché se stavo pensando che sia il primo questo sì potrebbe essere questo l'ordine sembra se a lui interessa l'ordine o se stiamo sbagliando qualcosa proviamo devo recuperare il bastone che ha qua quella z sì mi sembra questo ma perché non saprei se no dobbiamo combinare la non so si può combinare la la pindola con 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 lo stragio proviamo secondo me sì dai dai questo secondo me lo voleva l'ordine giusto proviamo si dai questo lo voleva l'ordine giusto come no il suonare non ha risuonato con l'altro meglio cercare un oggetto che fa il suo suono ma come io lo sento uguale che problemi ci sono allora andiamo proviamo che la pentola ci mettiamo questo vediamo cosa succede è un po' consumato ma potrebbe vabbè se io vado a riprendere la tenda se io vado a riprendere la la pentola mi combina suoni a meno che non bisogna non lo so no me lo scambio non me lo combino ma questo io lo sento come l'altro ah c'è del aspetta forse ho capito ecco era giusto è che non abbiamo messo l'acqua combinare acqua perché ho visto l'acqua e ho pensato che nella descrizione di prima del bicchiere diceva che possiamo mettere qualcosa per contenere chiedeva se c'era qualcosa che si poteva mettere ma non l'acqua di mare io ti metto adesso un flash combinare acqua e bicchiere trasformato in campana si e adesso sono diverso bicchiere d'acqua trasformato in campana devo fare attenzione ah lo stesso vuole ok perfetto allora riprendiamo questa sì e andiamo a riprendere di nuovo perché secondo me questo era a meno che non bisogna no l'acqua non c'è più era quello ma mancava l'acqua secondo me perché quella suono nella mia testa era perfetto mancava l'acqua torniamo a prendere il bastoncino sì signora era questo il suono dai andiamo a provare sperando che sia la volta buona ma secondo me sì mancava solo l'acqua vediamo cosa manca senti dai è quello dai proviamo dai è questo quel giorno è stato speciale per il cane dopo aver fatto risuonare i suoni mi sono trovato immerso in un'armonia di note diversa da prima nella melodia c'erano i suoni che avevo sentito prima che armonizzavano l'uno con l'altro come se fosse dovuto essere così dall'inizio qualcosa cresceva dentro di me con tutto il mio cuore ho risposto seguendo il ritmo con dei suoni è finito mi so sì carino dai aiuto musica altissima bello dai è stato carino e domenico prossimo ti porto un altro gioco e dopo alla fine la melodia si è conclusa e l'ultima nota è riverberato quella è stata l'ultima volta che ho sentito un suono venire da oltre l'oceano nonostante ciò volevo sentire ancora quella melodia ogni tanto andavo alla ricerca dei suoni quando me ne ricordavo spero che un giorno da qualche parte io riesca a sentire di nuovo quel suono sembrava tipo grazie per aver giocato e sembra il quando ci sono i titoli di coda che poi ci sono dei finali e a quale mi sono sentita così stavo per salutarti creatore non stavo per dire che dopo ottobre faccio non faccio palia ho cambiato idea non so se ti porterò palia o altri giochi perché ho visto che mi avete chiesto altre altri di creepy tale quindi adesso vedo ma in realtà avevo anche non è proprio stile Halloween perché avevo in mente anche un'altra serie o dei giochi carini dove ci sono delle storie cioè quello proprio sarebbe come guardare una serie tv però raccontata in smr quindi non lo so adesso il mio organista è deciso perché sai quando io ho tante idee poi dopo combinarle insieme devo decidere insomma devo prendere una decisione che sia quella perché vorrei fare questo vorrei fare quello vorrei fare quell'altro però bisogna prendere una decisione e farla ok quindi mi trovo un po' in questa situazione spero che comunque questa domenica tu ti sia rilassato che sia la la penichella domenicale o anche quella del pomeriggio ecco oppure anche quella della sera l'importante è che tu parta lunedì mattina carica per affrontare una nuova settimana spumeggiante visto che stiamo parlando di siamo qua con questo suono delle onde del mare e come sempre ti auguro buonanotte buon relax ciao creatura